Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo a breve dell'Eima, un appuntamento molto importante per il settore agricolo che interessa anche il ferrarese, ma vedremo diverse mostre, iniziative che si sono inaugurate in questo fine settimana. Parleremo di sport, ma dobbiamo aprire col caso che sta accendendo, che è acceso il dibattito in città in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, quello del post pubblicato su Facebook dal dirigente scolastico dell'Istituto per l'Asca di Ferrara Gargioni. I presidi ferraresi oggi hanno preso le distanze dal collega con una lettera inviata a tutte le redazioni. Il post è frutto di un falso storico ed è frutto di protagonismo, questo scrivono i direttori scolastici e sono intervenuti anche poco fa. I sindacati quindi sta montando questo caso, lo abbiamo detto, quello del post del direttore Gargioni su Facebook riguardante l'accostamento del Green Pass ad all'entrata di Auschwitz. Sono già diversi gli interventi anche delle ultime ore a livello politico. La lettera integrale dei direttori scolastici la trovate sul sito telestense.it. Ma adesso però dobbiamo cambiare argomento e parlare di Covid perché l'infarto intestinale come esordio di SARS-CoV-2 in pazienti asintomatici. E' questo l'esito della ricerca condotta da un'equipe multidisciplinare dell'azienda ospedaliera Universitaria Sant'Anna di Ferrara su tre pazienti deceduti e un quarto invece guarito. La ricerca già accettata da una rivista scientifica importante e pubblicata online, sarà breve anche pubblicata in formato cartaceo e presentata alle autorità di governo della sanità italiana. Allora sentiamo in proposito il professor Paolo Zamboni, direttore del centro di malattie vascolari del Sant'Anna dove è stata condotta appunto la ricerca. Operati d'urgenza un anno fa a Sant'Anna di Ferrara per infarto intestinale gravissimo. Dopo il decesso si scopre la presenza massiccia di SARS-CoV-2 nell'apparato vascolare intestinale di tre pazienti, due donne e un uomo per 60 e 80 anni, tutti negativi all'infezione Covid-19, se al tampone e alla tactoracica. E' il risultato questo di una meticolosa ricerca condotta in questi mesi da un'equipe dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara, formata da esperti di diverse discipline medico-scientifiche, come ci dice il professor Paolo Zamboni, direttore del centro di malattie vascolari dell'azienda ospedaliera Sant'Anna. E' un gruppo che si è creato al Sant'Anna con la professoressa Angelina Passa, la professoressa Rizzo, i patologi, cioè un gruppo interdisciplinare o tra i chirurghi e abbiamo messo in luce che un esordio possibile clinico della malattia Covid-19 è completamente diverso da quanto si conosceva e quindi può esordire in pazienti completamente asintomatici con tampone negativo e con TAC negativa per localizzazioni respiratorie con una devastante complicazione intestinale che è l'ischemia intestinale. Può essere il primo segno, questi pazienti sono stati portati al pronto soccorso e operati d'urgenza nella più completa inconsapevolezza che la causa di tutto fosse SARS-CoV-2. E questa è la scoperta che è stata fatta successivamente analizzando i pezzi, i vasi dell'intestino e l'intestino di questi pazienti. La scoperta di cui è stato pubblicato online il primo report, aggiunge il professor Zamboni, ci dice molte cose circa le possibilità che SARS-CoV-2 si manifesti in modo inusuale senza alcuna manifestazione tipica di Covid-19, ossia con sintomatologia addominale acuta pur senza sintomi respiratori. Ci sono stati dei pazienti non vaccinati che più di un anno fa si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna a Cona perché accusavano dei dolori intestinali, dico bene? Ma più che dolore, sì, dolore intestinale, ma un dolore intestinale molto importante, si tratta proprio di un addome acuto, di una peritonite, ecco diciamo sintomi gravissimi che ti portano rapidamente dal chirurgo e altrettanto rapidamente in sala operatoria. Si tratta di uno dei quadri addominali che deve dominare il chirurgo più difficili e drammatici e quasi sempre esita nella morte. E così è stato per tutti i pazienti che si sono presentati con questi sintomi, con questa manifestazione diciamo? diciamo per quasi tutti, ma questa è un'evenienza abbastanza purtroppo normale quando si verifica l'infarto intestinale. La novità è che questi infatti intestinali erano il sintomo di esordio del Covid-19. Possibile ipotizzare, secondo la ricerca, che nei pazienti infettati da SARS-CoV-2 l'infezione sia rimasta asintomatica a livello respiratorio, ma si sia evoluta in una patologia gastrointestinale. Ci dice che il virus, nelle forme asintomatiche, che sono l'80%, può essere non così asintomatico perché successivamente va a cronicizzarsi nella più completa inconsapevolezza da parte del soggetto, nel suo intestino e nei basi del suo intestino e può dare complicanze molto importanti. In più ci suggerisce anche che non c'è solo la possibilità della trasmissione respiratoria, ma anche quella orofecale. Quindi bisogna che tutte le persone che maneggiano cibi nei ristoranti o nei punti di vendita di cibi siano persone controllate e vaccinate. Approfondimenti nei prossimi telegiornali per capire anche l'impatto sulle misure di prevenzione di questa scoperta. A proposito di coronavirus, vediamo i numeri contenuti nell'ultimo bollettino. Un nuovo decesso nel ferrarese, un centese di 83 anni e 25 nuovi positivi nel ferrarese dove si registrano anche 38 nuovi guariti. La situazione ospedaliera è stabile. Se ci spostiamo in Emilia Romagna sono più di 340 nuovi positivi e due i decessi in tutta la regione. Capitolo vaccini nel ferrarese, quasi 1360 le somministrazioni sabato che hanno fatto salire a oltre 266 mila le prime dosi e più di 226 mila le seconde dosi in territorio estense. Pandemia, sfide per l'etica della salute e dell'imprenditoria nel territorio ferrarese, questo è il tema al centro del convegno che si è tenuto venerdì al Teatro Comunale di Ferrara. Salute, territorio e imprese interpretate secondo i valori della solidarietà, della sussidarietà e della giustizia oltre che del bene comune, questo al centro dei tre incontri promossi da Ucid Ferrara, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. In questa ottica si potrebbero incentivare anche ulteriori sblocchi produttivi e imprenditoriali, ad esempio nell'ambito di specifiche applicazioni biotecnologiche o imprese a vocazione biomedicale che si potrebbero affiancare i consueti sbocchi agricoli e di trasformazione. Ciò comporterebbe un dialogo tra imprese e ricerca svolta nell'ambito di Unife. Il primo convegno venerdì sera al Teatro Comunale ha affrontato il tema della pandemia, le sfide per l'etica della salute e dell'imprenditoria nel territorio ferrarese, con l'introduzione dell'arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, seguita da tre approfondimenti affidati rispettivamente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sul tema pandemia. C'era anche il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che ha affrontato il tema dell'etica al servizio della polis in tempo di crisi e da ultimo il professore Andrea Crisanti, direttore laboratorio microbiologia dell'Università degli Studi di Padova, ha illustrato gli aspetti positivi e le criticità del sistema sanitario messo in luce dalla pandemia. I due convegni che seguiranno nel prossimo futuro verteranno su questioni più specifiche nel solco del binomio salute e imprenditoria territoriale. Economia ed agricoltura contro la rovescia per Eima International, la rassegna delle macchine, delle attrezzature e della componentistica per l'agricoltura e la cura del verde che si terrà a Bologna dal 19 al 23 ottobre. La manifestazione giunta alla sua 44esima edizione è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa nella cornice di Agriumbria, ricordati i numeri della Kermess e le novità di questa edizione di Eima. Un'area show, un'area demo all'esterno di circa 10.000 metri quadrati, quindi anche molto suggestiva da vedere, dove sfileranno i 14 modelli finalisti del concorso Tractor of the IAR organizzato dalla rivista Trattori. Crediamo possa essere un evento veramente molto suggestivo intanto perché il visitatore avrà la possibilità di vedere all'opera le macchine più all'avanguardia che sono state proprio costruite dai costruttori per rappresentare l'avanguardia di questo settore, ma non solo, quest'area avrà anche un allestimento verde molto bello da vedere, molto fruibile e la dimostrazione delle macchine per l'economia circolare, la bioenergia, quindi tutto quello che è fonte rinnovabile. Non solo perché ci saranno all'interno dei saloni di Eima, mi viene in mente Eima Digital, ma non solo, tutta quella che è l'avanguardia di questo nostro meraviglioso mondo e tutto quello che le aziende in un anno e mezzo, due anni di assenza di rassegne fieristiche hanno fatto perché le novità di prodotto sono e saranno sicuramente tantissime. L'Eima parte con un numero di espositori impressionante, 1.350 aziende che hanno creduto che le fiere in presenza fossero importanti, nonostante questa pandemia ci abbia colpito profondamente, abbiamo comunque deciso di portare avanti gli investimenti, portare avanti, far vedere le novità specifiche. Noi facciamo bene l'investimento ed è importante per noi mostrare agli agricoltori, ai rivenditori, agli importatori e anche ai professionisti, ai giornalisti, ai condotersisti tutto quello che è la tecnica che si è sviluppata. Negli ultimi due anni come industria noi abbiamo sviluppato macchine nuove, macchine innovative, non solo verso l'agricoltura digitale, cioè la 4.0, l'agricoltura di precisione, ma anche verso l'agricoltura biologica. Esisterà un filone sull'Eima Digital, esisterà anche l'Eima Energy che farà vedere tutto quello che si può fare anche sull'economia circolare nel nostro settore. Il nostro settore sta andando veramente molto bene, le immatricolazioni stanno dando dei risultati impressionanti non solo rispetto al 2020 in cui l'immatricolato dei trattori cresce quasi del 50% ma anche rispetto al 2019 che cresciamo del 25%, per cui il nostro settore sta godendo di una grossa salute. Abbiamo alcune preoccupazioni perché le materie prime di trasformazione, l'acciaio soprattutto, ma anche l'energia, il gas e l'energia elettrica stanno aumentando in maniera importante. Noi quest'anno siamo riusciti bene o male a gestire con le nostre scorte e con la riduzione dei nostri margini questo tipo di inflazione, comunque un movimento inflativo, purtroppo in questo momento facciamo molta fatica a non aumentare le macchine finite verso l'agricoltore. Spero che questo sia solo un fattore temporaneo, non raffreddi essenzialmente quello che è questa bella crescita del nostro settore. Cultura e arte adesso inaugurata a Ferrara la mostra permanente dedicata al regista Florestano Vancini, emozionata ieri la figlia Gloria che ha sottolineato il valore della mostra come occasione per ricordare il padre legando la sua memoria a Ferrara dove è nato, promotore del progetto è Stefano Muroni, fondatore della scuola Vancini e presidente di Ferrara la città del cinema figliera creativa che accoglie giovanissimi in un percorso formativo preparandole diventare attori, registi e produttori a Muroni. Il 16 settembre scorso la giuria del premio Acquistoria ha segnato il premio per la sezione riguardante il romanzo storico per Rubens, giocava a pallone, Pendragon edizioni, ma sentiamo Muroni durante l'inaugurazione di ieri allo spazio Grisù. Stiamo inaugurando a Factory Grisù qua nella città di Ferrara la prima mostra permanente di cinema della città di Ferrara e una delle pochissime in Italia dedicata ai manifesti cinematografici. La mostra si intitola Vancini Manifesto, l'arte nei manifesti del cinema di Florestano Vancini. È una mostra dedicata al grande maestro cinematografico Florestano Vancini, ma anche una grande mostra dedicata ai manifesti e soprattutto a quei pittori di cinema che realizzarono i manifesti di Florestano Vancini. Quindi non c'è solo la storia del Novecento, non c'è solo la storia del cinema di Vancini e in qualche modo anche la storia della nostra città, ma anche una storia scomparsa che è la storia di molti autori, molti artisti, molti pittori che nel caso di Vancini tra gli anni 60 e gli anni 80 realizzarono i manifesti. La mostra contiene più di 50 pezzi fra soggetti, soggettoni, fotobuste, manifesti due fogli, manifesti quattro fogli e altri piccoli cimedi molto interessanti. La cosa bella è anche che si trova all'entrata della scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini quindi ogni volta che i nostri allievi entreranno con le loro famiglie o gli aspiranti allievi entreranno con le famiglie durante gli Open Day, si ritroveranno in una mostra dove c'è l'arte cinematografica in una scuola che è arte cinematografica. Quindi c'è un connubio straordinario tra il passato, il presente e il futuro. Ci sarebbero tante cose da chiedere a Stefano Moroni, mi limiterò a chiederne una chiedendogli però l'impegno di venircene a raccontare tutte le altre a breve. E quello che vorrei sapere da te è di questo premio che hai ricevuto Acquistoria. Io quest'anno sono uscito con il mio romanzo d'esordio, Rubens giocava a pallone, edizioni Pendragon e incredibilmente c'è un premio in Italia molto importante, uno dei 4 o 5 premi più importanti in Italia, certamente il più importante per romanzo storico. Che il premio Acquistoria, per capirci, Antonio Pennacchi con Canale Mussolini vinse il premio Strega e il premio Acquistoria. Quest'anno l'ho vinto io, con Rubens giocava a pallone e quindi il 16 ottobre sarò ad Acquiterme in Piemonte per ricevere il premio e oltre al premio c'è anche un premio in denaro, sono 6.500 euro, ma che non è che l'ho vinto io il premio, l'ha vinto Rubens, l'ha vinto la mia bonifica, l'ha vinta la mia pianura, l'ha vinta la grande storia che ho scritto e quindi devolverò questi 6.500 euro alla mia pianura e quindi ogni primo di giugno, la nascita di Rubens Fadini, devolverò 600 euro per dieci anni per ripristinare e così attivare una manutenzione al campo sportivo di Gerardi, frazione di Yolande di Savoio, perché in quel campo sportivo il mio Rubens nel romanzo inizia a dare i primi calci ad un pallone. Questo per ricordarci sempre che il passato ci parla ancora e quel passato può in qualche modo riprogettare e migliorare il futuro del nostro territorio. Andiamo in provincia di Ferrara, adesso bella e importante inaugurazione ieri a Codigoro. Sempre grandi emozioni durante le prime liberazioni al centro di recupero della fauna selvatica, inaugurato sabato nell'oasi Garzaia di Codigoro. Liberati alcuni rapaci e unistrice che si sono immersi subito fra il verde che circonda questo luogo unico, dove grazie all'associazione Amici degli Animali ci si prenderà cura fino alla completa guarigione degli animali trovati feriti nei comuni del Delta. Per le segnalazioni è stato attivato un numero cellulare. Durante l'inaugurazione alla quale era presente il sindaco di Codigoro, Alice Sabina Zanardi, sono intervenuti il presidente dell'associazione Massimo Marendon e Sabrina Bulgarelli, responsabile della Garzaia, che hanno spiegato come in questo luogo gli animali troveranno cure mediche, passione e tanta cura prima del loro ritorno alla libertà. Ad Alessandro Ronconi il compito delle prime liberazioni di questi splendidi esemplari. Sport, Spal, adesso Bianco Azzurri sconfitti per 2-1, ieri contro la Regina, ecco le parole dell'allenatore Cloteta a fine partita. Penso che è stata una partita equilibrata, penso che il suo primo gol lo ha messo in difficoltà grande, penso che la squadra è stata molto bene a tornare in una partita difficile, abbiamo fatto l'1-1 e penso che nel primo tempo abbiamo finito bene, abbiamo giocato, abbiamo trovato l'espazio che noi vogliamo. Al secondo tempo la squadra ha iniziato bene, buscando di continuare a dominare con la palla, a fare male, sappiamo che Regina è una squadra con tanta esperienza che va a sperare l'errore per ripartire, cosa che ha successo in un errore nostro, ha successo, ha fatto il secondo gol, dopo abbiamo fatto cambi per continuare a cercare una partita, ma noi ci abbiamo messo in difficoltà, perché penso che la Regina ha giocato con molta esperienza negli ultimi 20 minuti, ha parato molto il tempo della partita, noi non abbiamo riuscito a trovare la fluidezza che abbiamo trovato nel primo tempo e alla fine penso che è un risultato che io penso che la SPA l'ha fatto di più, perché negli ultimi 20 minuti abbiamo tenuto due occasioni clari di segnare, una di Peda e una di Capradosi, ma la palla è entrata, l'importante per noi, abbiamo parlato con tutta la squadra, l'importante adesso è imparare di questa partita, di sapere, di continuare a crescere, di continuare a conoscerlo noi e fare una gran partita martedì contro Vicenza. Ora parliamo della Far Gravel, la manifestazione che si è tenuta ieri in cui si è andata in bici fino al mare percorrendo l'antico corso del Po del Primaro tra le valli di Argenta. La Far Gravel è una manifestazione ciclistica non competitiva, questo è il quarto anno, abbiamo 490 iscritti, tre percorsi, 50, 100 e 150 chilometri, aperti a tutti, dal principiante al ciclista forte, uomini e donne, giovani e bambini, l'intento è di farvi conoscere, far loro conoscere le possibilità ciclistiche, cicloturistiche e turistiche nei nostri territori, in specie fra Ferrara, Argenta e la costa, Far, Ferrara, Argenta, Ravenna. Quindi è un'esperienza bella, ci si diverte, non ci sono classifiche, tempi gradatori ma tanti premi. Sono appena rientrato dal percorso della 100 chilometri e devo dire che mi sono veramente divertito, il percorso è vario, ci sono tratti di asfalto, di sterrato, di argini, di fiume, quindi veramente, come dicevo, molto vario e permette di divertirsi. Ci sono dei bellissimi ristori, poco prima dell'arrivo a circa 10 chilometri c'è anche un ristoro dove si può bere la birra artigianale e quindi ti dà lo sprint finale per arrivare all'arrivo. È la prima edizione che Cannondale sostiene questo evento e siamo veramente contenti di come sia andato, anche il tempo ci ha aggraziato, le previsioni erano veramente brutte, invece c'è stato il sole praticamente su tutto il percorso. A noi è piaciuto tanto la filosofia di questo evento perché intanzitutto non è una gara, è con partenza alla francese ed è nello spirito proprio del gravel perché ognuno approccia, diciamo, questo evento come vuole, se uno vuole andare forte, va forte oppure si ferma a ristori, fa il suo passo e quindi, diciamo, secondo me proprio per tutti gli utenti, per tutti i ciclisti che possono apprezzare sia il livello dell'organizzazione che secondo me è molto alto e poi anche tutta la bellezza naturalistica delle valli di d'Argenta e delle valli di Comacchio. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica sera. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.